Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 5 marzo 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo pesci. Giornata no, meglio dormirci su. Si dice che non tutte le ciambelle escano con buco ed è una grande verità, almeno a giudicare da questa giornata, con un concentrato di stellacce ostili, in accordo tra loro per mettervi il bastone tra le ruote. La prima è Marte, accompagnato da Venere incoperchiati entrambi nella vostra dodicesima casa, ma non per questo inermi, tutt'altro, vi surriscaldano dall'interno alimentando tensioni emotive. Anche la pressione si rialza, mandandovi il sangue al cervello, mentre la luna alta nel cielo inquadratura dirige il gioco con l'emotività, gran bella cosa in certi frangenti, ma in altri un verso sfascio. Braccio di ferro tra famiglia e carriera, il vostro capo, interessato alla vostra genialità, vi fa gocita, ma chi vi vuole bene, preoccupato per il vostro benessere, vi aspetta con la cena in caldo. Uffa che stress! Notizie piacevoli in arrivo o arrivate da poco. Notizie positive e favorevoli, qualcosa che si annuncia. Conquiste, attrazione, un uomo non più giovane potrebbe fare da tramite per nuove conoscenze. Un uomo maturo, separato, divorziato, che ha reciso da poco un rapporto potrebbe improvvisamente farsi presente nella vostra vita. Curate di più e in prima persona le vostre cose, potreste avere anche delle buone possibilità di riuscire in progetti su cui avete poche speranze. Si tratta però di coltivare e lavorare le idee giuste. Oggi alcuni di voi, soprattutto quelli nati di martedì, si sentiranno in splendida forma fisica. Solo in serata, per quelli nati di martedì, una persona cara, anziana, potrebbe darvi un dispiacere. Vi sentite aviliti? Niente paura inizia una schiarita, Giove e Marte vi daranno nel corso della stessa giornata opportunità nuove per iniziare a risalire la china. Di certo i prossimi giorni potrebbero sorprendervi. Il vostro perfezionismo vi farà vedere sempre le più piccole imperfezioni soprattutto negli altri, ma parate a convivere con i difetti altrui e scoprirete che la giornata, tutto sommato, non andrà male. Lavorerai meglio da solo. Difficoltà con il partner o con un socio. Azioni guidate dal subconscio. Analizza bene i tuoi atteggimenti e comportamenti. Irritabilità. Frena la lingua o potrai pentirtene amaramente. Guida piano e con prudenza. C'è qualcuno che sta spettegolando su di voi per farvi sembrare diversi da quello che siete in realtà, prestate molta attenzione a che i pettegolezzi non si trasformino in calunnie. Qualche piccola uscita di denaro extra vi metterà di cattivo umore ma sarà presto ricompensata. Non confidate i vostri segreti a qualche amico, anche se fidato. Il segreto dovrà restare vostro. Oggi un amico o un'amica potrebbero giudicarvi a vostra insaputta. L'equilibrio tra la parte attiva, affettiva e quella intellettiva, tra la vitalità e la socialità, sarà perfetto oggi, in special modo se festeggiate il vostro compleanno in questi giorni e nella terza decade dei pesci. Orizzonte astrale di inizio marzo che vi vede in splendida forma psicofisica, dal momento che sia il sole, Nettuno che Mercurio e Saturno sono ospitati in congiunzione nel vostro segno. Nettuno nel vostro segno parla il linguaggio dell'immaginario, in conflitto con la luna battagliera in sagittario, che subito si inalbera tacciandovi di inconcludenza. Come darle torto. Vorreste salire in cielo a rubare la luna ma non riuscite neppure ad arrivare sul tetto di casa, grandi velleità, promesse solenni, ma poi in capo a poche ore ve le perdete per strada. Amore ed Eros. Partner un po' deluso, parlate d'amore, di sesso, di unione, perfino di mettere su casa insieme, ma poi al momento buono per agire vi tirate indietro come la lumaca nel suo guscio. Paura di volare, romanzo di Erika Jong, il cui titolo tratteggia alla perfezione il vostro stato d'animo, sognare vi piace, ma quando il sogno diventa realtà. Aiuto. Saturno, pur molto positivo in congiunzione può provocare la vostra possessività, specie se siete nati nella prima e seconda decade. Fate attenzione anche ai nervosismi generati da facili tensioni impreviste all'interno della coppia. Sarà la dolcezza e la delicatezza che saprete mettere in atto, a minimizzare ogni contrarietà. Quadro positivo invece per i pesci che nascano nella terza decade, che vivono una fase di stabilità sentimentale grazie all'apporto di uno splendido urano transitante nel segno amico del toro. Lavoro e denaro. Impigriti da una situazione che vi rema contro, quando le cose non girano perdete subito motivazione mordente rifugiandovi sul tappeto volante del sogno. Creatività insonnellita e abbiocata in ogni evenienza, in riunione col capo o peggio richiamati per inconcludenza non cambiate espressione tanto meno ritmo. Sappiate prepararvi a quanto gli astri hanno previsto per voi. Perché sta per arrivare per voi una grande occasione di rivincita in ambito professionale, in special modo se siete nati nella terza decade. Mercurio, il benefico, vi assiste e vi permettere di essere spediti e rapidi. Tutto questo in special modo se svolgete un'attività connessa col commercio e con la vendita. Benessere Capo indisponente, genitori pretenziosi, suoceri noiosi, oggi non vi va bene nessuno, tanto meno la vostra immagine allo specchio, non vi piacete, vi fate le linguacce, ecco il motivo per ci siete intrattabili. Denaro La luna, il sole, mercurio, giove sono al vostro fianco e la fortuna oggi la potete davvero acchiappare per i capelli. Il superenalotto è un'occasione per divertirvi. Per lei, tra le donne di famiglia è lotta continua e non è un riferimento al movimento di protesta sessantottino, sono proprio le vostre relazioni, talmente intricati che nemmeno Freud ne verrebbe a capo. Per lui, fregati a un incontro sportivo, dove con ottimismo eccessivo davate già la vostra squadra per vincente. Niente da fare, energia e morale sotto i tacchi per tutti. Colore delle emozioni, marrone bruciato. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 5, finanze, 6, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie per aver guardato il video.